Dalle storie Drodot possiamo capire una cosa molto interessante rispetto al tema dell'oracolo di Delphi, infatti Creso nel primo libro appunto sulla Lidia, Creso va a chiedere all'oracolo di Delphi direttamente che cosa deve fare, specificatamente gli chiede che cosa accadrà nel momento in cui io attaccherò i persiani ovvero sia Ciro. Capite bene che l'informazione che Creso chiede all'oracolo di Delphi è molto molto diretta, tale per cui in realtà l'oracolo di Delphi non ha in realtà una sera risposta da dargli, nel senso non può tentare di chiarificare questa risposta, nel senso che la domanda di Creso è ultraggiosa, cioè vuole un'informazione specifica, ma l'oracolo di Delphi in fin dei conti nel senso greco autentico non è lì per dare informazioni specifiche, o almeno non è lì per dare risposte su base di informazione specifica. Infatti a un certo punto la risposta dell'oracolo sarà per pararsi le chiappe, quella tale per cui gli dirà, allora se tu attaccherai i persiani ovvero sia Ciro, un impero crollerà. Da questo punto di vista capite bene che era anche una risposta per pararsi davvero le chiappe, cioè l'oracolo non poteva sapere che cosa sarebbe accaduto realisticamente, perché non era un futurologo e quindi per cercare appunto trovare un escamotage come risposta disse guarda che se tu attacchi un impero cadrà. E cos'è che dice Rodoto? Creso interpretò male, interpretò male, il termine interpretare è qui che si usa e utilizzò male l'informazione dell'oracolo perché pensò, ah beh, dice l'oracolo, un impero crollerà e quindi crollerà quello di Ciro. Il fatto è che in realtà prima di tutto Creso non si è reso conto, rileggendo Rodoto indirettamente, Rodoto ci dice che la questione l'ha posta sbagliata. Cosa vai a chiedere all'oracolo di Delfi? Che cosa accadrà se attaccherai Ciro? Sbagliato. Secondo punto, interpreti male l'informazione dell'oracolo perché anche il tuo impero potrebbe crollare. E infatti a un certo punto quando Creso perde contro Ciro e va a lamentarsi dall'oracolo di Delfi, l'oracolo di Delfi risponderà guarda che tu sei venuto a chiedermi un'informazione e io te l'ho data. Solo che tu volevi, pretendevi da me un'informazione specifica. Che cosa accadrà se io attaccherò Ciro? E io ti ho detto come risposta il senso interpretativo. Un impero crollerà. Allora sei tu che sei stato stupido e hai davvero capito male il senso dell'oracolo in primis e il gioco dell'interpretazione in secondis. E infatti te la sei presa con me ora. Vieni a prendertela con me ora. Te la sei presa anche con Ciro dicendo eh ma l'oracolo di Delfi mi ha consegnato male quando in realtà sei tu che sei stato stupido. Da qui capiamo una cosa molto interessante. Capiamo il gioco delle questioni. Cioè le domande all'oracolo di Delfi non erano tendenzialmente ad andare a chiedere all'oracolo che cosa accadeva in futuro tale per cui che cosa accadrà di sicuro se io farò questo. No 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 no. Le domande, rileggendo anche Rodotto, erano molto diverse. Tendenzialmente i greci, tanto uomini privati quanto poi anche in generale ambasciatori delle poleis, i greci in generale, andavano a chiedere queste questioni. Facevano questi tipi di domande. Ma sarebbe meglio tendenzialmente oracolo fare X o Y o Z? Capite bene che l'oracolo rispondeva. Magari sarebbe meglio, dava tutta una sua risposta, poi magari sarebbe meglio tendere a fare X o tendere a fare Y o tendere a fare Z. Anche perché in questo senso, primo luogo, c'è il gioco dell'interpretazione. L'oracolo, tu vai a chiedere all'oracolo, l'oracolo interpreta. Cioè fa tutta una sua disamina, per poi non è che ti dà un'informazione specifica, ti dà un'informazione generale tale per cui sarebbe meglio, sulla base di quello che ho detto, forse, però ci devi riflettere anche tu, fare X. Però tu ci rifletti. Perché? Perché ho dato delle informazioni, anche generiche. Non ti ho dato una verità univoca. Sei tu ora che mi devi interpretare il mio risponso. Tale per cui io ti dico che tendenzialmente sarebbe meglio fare X. Però ti ho dato informazioni anche su Y e Z. Vedi tu, però, se fai un attimo 2 più 2, sembra che io ti dica che è meglio fare X. Ora, capite bene che quest'uomo o questi ambasciatori che tornavano nella polis, se facevano X come più o meno aveva consigliato l'oracolo, o Y o Z come aveva consigliato l'oracolo, e poi la cosa era tragica. Non è che potevano andarsela a prendersela con l'oracolo. Perché in realtà, anche se l'oracolo, tra l'altro, aveva consigliato di fare più X che Z, se X portava conseguenze tragiche, allora chissà cosa avrebbero portato Y e Z, dato che le informazioni dell'oracolo tendevano di più a, appunto, X. Quindi, la cosa interessante è perché ci sono due linee da considerare. La linea interpretativa, cioè l'oracolo di Delphi interpreta, ma anche coloro che vanno a chiedere interpretano, e poi la linea dell'oracolo infallibile. Cioè, si cercava di dare una mano a questo oracolo. In realtà, l'oracolo, se non gli dava una mano, cercava di darsi da solo una mano, sulla base anche del sossegno dei sacerdoti che gli stavano vicini. Tale per cui, non potevi mettere in crisi l'oracolo, perché chiedere un'informazione diretta veniva considerato come negligenza e abbattimento della quotidianità dell'oracolo. E quindi questa è una cosa assolutamente da non fare, una mancanza di rispetto nei confronti della consuetudine. Tutto al più, tra l'altro, questo ci dà anche un altro tipo di rilevanza, ovvero se la rilevanza di fede. Perché la linea interpretativa dell'oracolo, il rapporto alla linea interpretativa di colui che chiedeva? Molto semplice, perché colui che chiedeva, quando tornava a casa, quindi se era privato, andava in famiglia, andava a chiedere, a riflettere con la famiglia, o era un ambasciatore, un generale che andava nella polis a esemplificare ciò che aveva sentito. C'era tutto poi un sistema di discussione. L'oracolo di Delphi non era lì per fare il futurologo, era lì per dare consigli, tale per cui questi consigli servivano per fare in modo che le comunità riflettessero, le comunità greche riflettessero, su quello che avevano chiesto. E' questo che serviva. E' questo a cui i greci puntavano. Cioè un senso di consolidamento anche del costume comunitario. E' lo stesso motivo per cui alcuni pensano, ma perché i greci, che a un certo punto cominciarono a scrivere anche opere di logica, si pensa di Aristotele, cominciavano sempre più e andavano a Delphi. Che senso ha? Molto probabilmente, e qui c'è anche il supporto da tesi Durkheim, sul senso della religione come collante, i greci andavano dall'oracolo di Delphi perché naturalmente avevano una politica distinta dalla religione, però volevano capire se le loro riflessioni, che avevano una tendenza di stampo politico, che poi magari li portavano a voler fare delle guerre, a voler conquistare delle terre, a voler agire in un certo modo da un punto di vista commerciale, capire quali conseguenze la divinità probabilmente avrebbe posto loro. E quindi, sulla base dei dati, delle informazioni che l'oracolo dava, e queste poi andavano interpretate, si potevano poi, e si stessi, la comunità stessa, gli uomini individuali stessi, riflettere, cercare di autoconsolidare queste cose, anche rifletterci filosoficamente, dare un senso di significato a questo tipo di parole. Non è un caso, attenzione, che Platone, sulla base di quello che sembra abbia detto l'oracolo di Delphi, Socrate è il più saggio degli uomini, abbia dato una sua linea interpretativa, ovvero sia, se è il più saggio degli uomini ci sarà un significato, proviamo a interpretare questo significato, è il più saggio perché? Magari è il più saggio perché sa di non sapere. Allora da lì Platone ci fa una sua filosofia. Cioè non è che l'oracolo di Delphi ha fatto la filosofia di Platone, è Platone che attraverso, sembra le parole dell'oracolo di Delphi, ci ha fatto una filosofia, attraverso Socrate. E anche Platone ci dà una linea guida su chi era l'oracolo di Delphi. Era un oracolo che ti diceva delle cose, ma sei tu che poi devi farti una tua filosofia. E tra l'altro qui capiamo perfettamente la distanza che c'era in certo qual modo tra religione e politica, ovvero sia non distanza perché andavano dall'oracolo di Delphi anche a chiedere in fin dei conti se sarebbe meglio fare x, y nel caso di una guerra. Però in fin dei conti poi c'era l'impulso della distanza della politica dalla religione perché i greci volevano solo sapere in fin dei conti come collegarsi al senso religioso sulla base delle loro decisioni politiche. Cioè quali saranno gli effetti della divinità su quello che vogliamo fare noi politicamente. E quindi anche se vogliamo un senso di partecipazione interna alla comunità e di dibattito. E quindi anche un senso, se vogliamo, civili il rapporto alla divinità che vedeva la divinità nelle cose, negli oggetti, negli elementi, nella realtà effettiva generale. E che quindi, al di là della scelta politica comunitaria, aveva sempre un impatto con la divinità inevitabile. L'oracolo di Delphi alla fine aveva sì un'autorità, ma non impattava da un punto di vista politico, non imponeva i comportamenti, dava esemplificazioni di stampo interpretativo, che poi la città doveva pure interpretare nuovamente. Se l'oracolo, da un punto di vista interpretativo, lo dava sulla base degli uccelli, dell'interiore di un animale, o delle visioni che poteva avere, la polis sulla base della sua politica. E, da questo punto di vista, della riflessione politica, della sua comunità politica. In rapporto a un certo tipo di dibattito, che poi si distingueva da polis a polis, sulla base anche della sua realtà politica specifica. Ciao!